Una sofferenza durata 82 minuti nonostante il vantaggio di Raspadori e solo il gol di Elmas ha dato la certezza dei tre punti al Napoli nel derby contro la Salernitana. Una gara giocata col freno a mano tirato, quella degli azzurri che portano a casa solo il risultato, ma non di certo la prestazione sportiva. Non può bastare il guizzo dei singoli perché non è detto che possano risolvere le gare. Non si può giocare con avversari nettamente inferiori in maniera svogliata e senza nerbo e solo per 20 minuti. Tatticamente la Salernitana avrebbe meritato il pari sul campo, specie nel secondo tempo quando il Napoli è completamente sparito, arroccandosi in difesa e sbagliando due passaggi su tre. Garzia, alla vigilia del match contro i Granata, aveva affermato che il campionato è ancora agli albori e che il Napoli si avvicinerà all'obiettivo prestabilito, ovvero entrare tra le prime quattro. I tifosi per ora si accontentano dei passi in avanti, ma vogliono di più da tecnico e squadra. I risultati stanno venendo, ma la squadra non è quella dell'anno scorso. L'anno scorso si vedeva più gioco, si vedeva qualche gol in più. Adesso purtroppo tutto questo non lo so se è la colpa di Garzia oppure è della squadra che sono demotivati. Il Napoli potrebbe riprendersi, ma io penso che non con questa allenatura, che non ha carattere, non lo vedo molto caricato, poi sarà silenzioso, ma è francese. Non lo vedo adatto al Napoli e ne ha lo spirito di Napoletano. Se si pensa all'anno scorso, indubbiamente non è un gioco brillante, che non dà soddisfazione agli amanti del bel gioco, però per adesso arrivano almeno delle vittorie. Ovviamente si rispetta di più e si spera che la squadra inizi a girare un po' meglio rispetto a prima. Non ci lamentiamo sempre, però diciamo che il primo tempo è stato all'altezza e il secondo giustamente, è sempre un derby, quindi la valutazione bisogna farla in generale, però penso che il Napoli sta in ripresa. Il Napoli quest'anno si sta basando molto sui singoli, perché il gioco c'è, ma è sempre un po' alternerante. Le cose passate sono passate, dobbiamo pensare al presente, quindi il calcio passato rimane un bel ricordo che ha fatto Spalletti, però dobbiamo guardare il presente e dobbiamo essere fiduciosi.